Come fare una maschera per Android Una vite con un bullone, lo spray verde o vernice Della gomma piuma, due viti autofilettanti e due elastici abbastanza lunghi Per iniziare rompete le gambe dello scolapasta Fate due fori sulle maniglie, in ogni maniglia Su cui infilerete gli elastici Legate gli elastici dietro E fateli abbastanza lunghi così che la vostra faccia possa starci comodamente Colorate poi con vernice verde Per il paralume dovete fare due fori A distanza di circa 9 cm dal centro e 18 cm circa tra di essi A questi buchi Avviterete le antenne con delle viti autofilettanti internamente Poi fate sempre con un trapano, un foro al centro Con cui fisserete lo scolapasta Grazie al vite e il bullone La gomma piuma è di circa 2 cm di spessore e circa 5 cm di larghezza Servono due pezzi Un pezzo lungo quanto il diametro dello scolapasta E un pezzo di circa 10 cm di larghezza, di diametro Che fisserete con la colla a caldo Colorate poi di verde il tutto E come ultimo passo Tagliate due cerchi di carta di diametro di circa 2,5 cm E li appiccicate a circa 25 cm di distanza Grazie per aver visto questo video tutorial Per il sito androidworld.it Grazie